ciao ragazze benvenute o bentornate nel mio canale oggi vi spiegherò come applicare la polvere effetto specchio ho bufferizzato la superficie e adesso applico due strati di colore oggi utilizzerò il nero non è molto coprente quindi questo semi permanente quindi a maggior ragione vado a fare due passate catalizzo la prima nel frattempo ho messo anche il flash perché sto facendo questo lavoro con la luce naturale ma sta quasi per piovere quindi è molto molto buia la giornata infatti credo che tra non molto sentirete anche voi che sta tuonando ok io ogni tanto giro anche giro anche la dip per far diciamo omogeneizzare meglio il colore il prodotto vado a catalizzare di nuovo dopo aver catalizzato anche la seconda passata vado a sigillare con un top senza dispersione è molto importante che sigiliate con un top senza dispersione la polvere effetto specchio si può applicare solo sul top senza dispersione io sto usando quello di venalisa mi ci trovo molto bene comprato su aliexpress ok una volta catalizzato il lampada il gel senza dispersione il top coat senza dispersione dobbiamo applicare la polvere effetto specchio sul quando ancora l'unghia è calda più calda è meglio il prodotto si applicherà vado e lampada eccoci qui lasciamo dalla lampada applichiamo la polvere guardate un po sembra pochissima in realtà è poca però ce ne vado al ovviamente poca sull'unghia che comunque la quantità va bene applichiamo così in modo molto omogeneo e andiamo a strofinarla dall'alto verso il basso con il dito applicato poca non so se rende dalla telecamera ma l'effetto è veramente bello veramente bello e mentre le trovinare sempre bello il basso con il dito e allora si può spalmare con il dito oppure con un pennello in silicone che io ho ma non mi è venuto in mente di utilizzarlo ho più a portata di mano ovviamente il dito quindi ecco non so se si vede è diventata completamente argentata effetto specchio luccica tantissimo nel caso in cui andiamo ad applicare questo pigmento sull'unghia usiamo la spazzolina per eliminare il prodotto in eccesso che si deposita nel giro cuticole e nei valli laterali dopodiché andiamo a sigillare è preferibile fare due passate di sigillante andiamo a sigillare con un top coat preferibilmente con dispersione perché è più elastico e non so tiene meglio il prodotto fanno il motivo esatto non lo so so che comunque sia è più elastico il gel senza dispersione ma con il top coat scusatemi con dispersione e nulla andiamo a fare due passate lo sigillano tutti con il top coat con dispersione e andiamo a sigillare a sigillarlo anche noi ok non dimentichiamo mai nel caso di una ricostruzione o nel caso di un lavoro comunque su su una mano di sigillare anche i bordi assolutamente non dimentichiamocelo e un'altra cosa che volevo dirvi sempre se voi fate un lavoro su mano su una mano insomma e prima di applicare il top coat finale con dispersione andate con un buffer leggermente a passarlo sui bordi laterali sul bordo libero dopo di che dopo aver bafferizzato il bordo libero delicatamente andiamo a passare la prima andiamo a fare la prima passata di top coat con dispersione adesso io l'ho passata e andiamo in lampada seconda passata di top coat ho finito di catalizzare anche la seconda passata di top coat aspetto il famoso minutino per far raffreddare il prodotto il top coat vado a sgrassare e la nail art è terminata è molto semplice è molto veloce senza che ve lo sto a dire e niente per oggi anche per oggi è tutto io vi ringrazio di avermi seguito se il video vi è piaciuto e vi è stato utile mettete un like iscrivetevi al canale per non perdere tutti gli altri i miei video se avete altri dubbi scriveteli qui nei commenti e che dire ci vediamo nel prossimo la prossima volta ciao ragazze grazie